Buongiorno, il mio nome è Giuseppe Vita. In Sengobem mi occupo dell'ufficio tecnico per l'assistenza ai clienti barra professionisti e della formazione a tutti i nostri clienti. Oggi io vi vorrei parlare di un prodotto, di un problema più che di un prodotto, che è quello delle vetrate dei nostri edifici. Perché? Perché appunto è importante non disperdere il calore che produciamo nel nostro ambiente in modo tale da non avere un effetto di parete fredda e non avere anche il rischio di formazione di condensa sulla superficie vetrata. E' altro problema che sorge con un vetro che tutt'oggi più del 60-70% delle vetrate che sono installate negli edifici sono vetri singoli, quindi non riescono ad essere efficienti da questo punto di vista. Il risultato è il problema di comfort nell'abitazione. Quindi che cosa possiamo fare? Possiamo intervenire utilizzando, prima cosa mi viene da dirvi, la vetrata isolante. Che cos'è la vetrata isolante? La vetrata isolante è un doppio vetro, due vetri, mi correggo, con un intercapelli di vario spessore a seconda delle prestazioni che vogliamo raggiungere e che ci permette di abbattere le dispersioni del calore verso l'esterno. Però non è sufficiente perché per avere una buona prestazione dobbiamo logicamente migliorarla. Allora cosa abbiamo fatto come produttori di vetro? Abbiamo realizzato dei depositi sulla superficie di questi vetri che ci permettono di migliorare le prestazioni perché vanno a bloccare le radiazioni emesse dal calore che produciamo all'interno dell'abitazione. Una soluzione, questo è quello che io chiamo vetrata isolante, come vedete abbiamo due vetri e un intercapelli di un certo spessore, in questo caso 12 mm. E con questo, con questi prodotti che andiamo a mettere come deposito all'interno dell'intercapelli, così è anche protetto, possiamo praticamente migliorare notevolmente la prestazione nella dispersione. Se in questo però non ci è sufficiente, possiamo fare la vetrata isolante tripla o triplo vetro. La differenza rispetto all'altro, come vedete, è che abbiamo appunto triplo vetro perché abbiamo tre lasse di vetro e due intercapelli e questo ci permette di migliorare notevolmente la prestazione, raggiungendo valori, fino a qualche anno fa, impensabili, fino a 0,5 watt metro quadro, che è l'equivalente di un muro di mattone pieno, dello spessore tra i 25 e i 30 cm. Questo per darvi un'idea di che prestazione parliamo, avendo una semplice lastra trasparente, come potete vedere. Il nome commerciale del prodotto è Planiter Clear 1.0 e ci fornisce la massima prestazione ad oggi sul mercato. Quale può essere una tipica applicazione del Planiter Clear? Mi viene da dire subito per tutte le esposizioni al nord, stiamo parlando di un vetro cosiddetto basso emissivo, quindi ci protegge solo dalla dispersione termica, quindi il nord è la sua applicazione migliore. Il Planiter Clear lo potete, logicamente, non lo commercializziamo direttamente noi, tramite le vetrerie nostri clienti, i nostri partner, che abbiamo due reti commerciali di vetrerie e una produce il marchio Saint-Gobain Climalit e l'altra produce una vetra risonante con prodotti Saint-Gobain che sono i residential partner. Però se non dovete sostituire il solo vetro nelle vostre finestre, ma dovete fare la sostituzione completa dell'infisso con il vetro, allora vi possiamo consigliare di andare presso la rete Windows Expert, reti che trovate direttamente sul nostro sito. Grazie e buona giornata.